Il video di Centrale, manca la corrente, è un blackout. Aia! Ragazzi... Sono su WhatShutOg Ma che cosa succede in questa città? Ma scenderi io qui? Non capisco Allora... Musica e tassati non ne ho Ma io ci metto questa Sì, sono FreeSquise FreeSquise Cuccia, cuccia名 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E' imbott Hey... Se n'è andato. Allora, andiamo. Fa' il culo? E fa' il culo. Come si spera! Attenzione, segnalato un bersaglio precedentemente identificato alle vostre coordinate. 911, dichiari l'emergenza, prego. E' un'emergenza, prego. Pronto? Ho fatto il contatto. Abbiamo l'ultima risorsa. Mandiamo la voia. Qu'è? 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 ... ... ... ... Ma dai sono scuffata Ha detto sì che sono così E mi uccida tutto Oh, peccato Ehi, come buta Grazie